Confindustria di Cosenza e Fondazione Narcassa insieme per una giornata infoformativa sulle nuove opportunità di lavoro per i liberi professionisti, mediante l'accesso diretto ai finanziamenti europei. Le figure professionali vengono assimilate alle piccole e medie imprese, per cui anche loro potranno partecipare direttamente ai bandi previsti per esempio dalla programmazione comunitaria, alcuni di questi sono già stati espletati, che prima erano riservati solo alle aziende. Questo sicuramente risponde all'evoluzione che nel tempo hanno avuto le professioni, oggi ai professionisti è chiesto un ruolo attivo, quindi anche loro debbono proporsi e debbono in qualche misura intraprendere, quindi questa è la logica che sta dietro questa modifica normativa e questa opportunità che oggi gli viene offerta. Durante l'iniziativa è stata sottolineata l'importanza delle figure dei liberi professionisti, che in Italia sono più di 170.000. I nuovi architetti e ingegneri devono saper sviluppare la capacità di creare e innovare, in collaborazione con la media e piccola impresa. Noi lavoriamo essenzialmente nel controllo e nell'attività di monitoraggio parlamentare, e più tutta un'altra serie di attività che tendono ad aprire nuovi campi di lavoro per quello che è il mondo dell'architettura e dell'ingegneria. Quindi noi, per esempio, adesso ci stiamo occupando in maniera molto intensa dell'internazionalizzazione, cioè delle possibilità di trovare commesse, lavori, attività professionali all'estero, ma al tempo stesso noi siamo stati tra i fautori fin dall'origine di questa idea dell'assimilazione della libera professione alla piccola e media impresa.